buongiorno ragazzi e benvenuti in questo video pillole di calisthenics oggi vediamo come eseguire al meglio il v push up questo fantastico esercizio che introduce poi il mio esercizio preferito ovvero i piegamenti in verticale liberi questa è la prima variante quindi da qua mi chiudo bene a serramanico vado a l'idea è partire il più compressi possibile all'inizio quindi stare chiusi a serramanico se questo ti viene difficile per la mobilità ti consiglio di flettere leggermente le gambe poi andiamo a svolgere il piegamento portiamo la testa leggermente in avanti di modo tale da formare un triangolo tra la testa e la base d'appoggio delle mani a terra in questo modo quindi da qua mi chiudo serramanico se ho problemi di mobilità fletto leggermente in avanti vado in avanti uno e poi da qua la chiudo bene ancora in questo modo l'importante è formare un triangolo mantenere gli avambracci perpendicolari rispetto al pavimento evitare di sgomitare in fuori tengo stretti tengo stretti i gomiti e da qua e questo è il v push up davvero interessante per lavorare sulle spalle per costruire forza massa muscolare e per costruire e per gettare le basi per quelli che saranno poi i free handstand push up corri a praticare questo esercizio ci vediamo in un prossimo video ciao